direttamente dalla cameretta magica benvenuti all'unoissimo video oggi è 6 di marzo allora, questo video è un video speciale perché forse in pochi di voi lo sanno ma proprio oggi sono passati 10 anni esatti da quando ho aperto il mio canale youtube guarda per me sembra sembra ieri sembra ieri di essere al 6 marzo 2011 quando ero ero poco più di un bambino di quasi 12 anni mentre ora sono comunque un adulto di quasi 22 anni comunque in questi anni ho avuto tanti iscritti ora siamo arrivati a aspettare ora siamo arrivati alla bellezza di 7390 che in 10 anni non è male come cosa e comunque spero che di avere tanti altri nuovi iscritti e di intrattenere voi per ancora moltissimi lunghi anni comunque sono veramente felice di aver raggiunto questo traguardo perché comunque non è da tutti avere un canale youtube per così tanti anni perché spesso alcuni dopo neanche un anno massimo un anno tendono a chiuderlo il canale mentre io ho deciso di continuare comunque per chi mi segue sin dall'inizio saprete bene o male sapete che tutto è cominciato con Toy Story perché comunque Toy Story 3 era da poco uscito nelle sale italiane e comunque in questo poi in ogni caso sono andato avanti con tante altre cose perché non è che potevo andare avanti potevo fare recensire solo cose di Toy Story e roba della Disney perché se no poi non avrebbe avuto tutto sto senso poi ho iniziato a recensire patatine particolari energy drink ma anche fino ad arrivare a fare video commemorativi video ricette e anche video di sepolture di personaggi famosi e poi comunque spero pure di fare un raduno e di fare anche dei vari incontri purtroppo causa covid la cosa è poco sindacabile però cercherò di fare qualcosa poi comunque dato poi comunque dato che ora sono passati dieci anni farò pure spero di fare anche dei gadget per il decennale poi comunque ne sarei contentissimo che tanti di voi mi vengano a trovare a San Cesario e poi comunque mi piacerebbe anche venirvi a trovare comunque per chi vuole venirmi a trovare a San Cesario mi scrive in privato su Instagram e su Facebook su Instagram mi chiamo andrafonti zaccagna444 e comunque e sono veramente felice di aver raggiunto questo traguardo poi comunque se dato che sono passati dieci anni ne sarei molto felice se qualcuno di voi mi volesse inviare inviarmi un regalo ovviamente non ve lo posso dare l'indirizzo per questioni di copyright però ve lo posso dare in privato basta che mi scriviate su Instagram o su Facebook oppure su Whatsapp e e così almeno nel dubbio qualcuno mi voglia inviarmi voglia inviarmi un regalo per il decennale per questo decennale ben venga poi purtroppo il decennale è caduto in un periodo veramente brutto ma proprio brutto per via del perché comunque ormai è un anno che stiamo combattendo il covid e comunque comunque spero tanto che finisca il prima possibile così almeno potrò incontrare tanti di voi e comunque sono sono veramente sono veramente orgoglioso dei miei iscritti ma anche dei miei fans e quindi che altro ci posso dire che comunque vi mando un bacione e un abbraccio a tutti voi voi so che mi volete bene anche io vi voglio bene comunque che si vuol dire e niente ci vediamo alla prossima